Allora arriva prima la macchina dell'antincenzo, poi la protezione civile e poi finalmente iniziamo a mettere i primi pali. Tu che hai fatto questo? Niente. No, 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 ancora il comienzo con internet? No, 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 non ti preoccupare. Che ha fatto? Niente. Non hai bloccato il traffico a mettere i paliti, poi ti hai portato in guida la carta. Ah, certo, certo. Ma lì ti hai portato in guida. Ecco questo qui. Tu che ho portato in guida? Tu che ho portato in guida? Fai la fotografia. Fai la fotografia. No, io voglio vedere come si mettono i pali. No, io voglio vedere come si mettono i pali. Voglio vedere come si mettono i pali. Bella. Eh, che c'è la chiave. Mario, se avremmo con questo, se fai intendermi, ti faccio il passare lì. Eh? Vabbè. Inziamo? Inziamo? Mmm, 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 mmm. Buon, niente. Eh, buon, 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 buon. Eh, buon, 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 buon. Buon, buon, buon. Buon, buon. Buon, buon. Buon, buon. Ah, ehi. Ehi. Allò, è ingracciato qui. Ci vuole un po' croglio, eh. finalmente è arrivato un po' di lavoro a Bofi, lo dobbiamo ammettere, non c'era lavoro, abbiamo trovato questo sistema, anche per poche ore, se mettono tutte le strade a un certo orario che mettono queste cose qua, è utile per il paese, quindi voglio ricerlo, io ci faccio prendere, io ci faccio prendere, io ci faccio prendere, tu stai registrando? Sì, io devo registrare la voce di questi signori, che devo registrare. E' fatto anche una fece a Marcucci quando lo mettevo di dito? Ah come non l'ha già fatto? No, i pier Marcucci, se riconosci i piedi allora sì. Qua facciamo tutti i piedi, ecco abbiamo messo tutta la palificazione, questo qua ha bisogno di un po' di lubrificazione, lubrificazione ci vuole, tiriamolo su, però quando non sai l'acqua? Ecco abbiamo trovato un indoppio, c'è qualche cosa dentro? Puglia la lampadina, piglia la lampadina, è pieno d'acqua. Ah è pieno d'acqua, e perché poi ci mettono l'acqua per... non ho messo... Chi è? Questo non era da mettere, non era da mettere questo qua, è un palo che non si da da.. non sai da mettere proprio. Oh, bravo! Però non è previsto!